Eccoci quindi qui ragazzi allora, benvenuti dal vostro gleditore giallorosso in un nuovo video di calciomercato Torniamo a parlare di un nuovo possibile centrocampista da poter inserire nella nostra rosa per rendere la nostra squadra più competitiva e adatta ad affrontare le prossime competizioni Sto parlando del centrocampista ivoriano Jean-Michael Seri Sicuramente qualcuno di voi già si ricorda di questo nome perché all'incirca 1-2 anni fa fece un video a riguardo intitolandolo Roma facciamo i seri Classico titolo clickbait che però servì per presentarvi questo giocatore che in quel momento era in rampa di lancio e destinato ad andare in uno dei maggiori club europei Al contrario il giocatore dopo quella stagione con il Nizza, club francese, andò al Fulham nel luglio del 2018 e come tutti ben sappiamo la squadra inglese è retrocessa nella serie B E quindi molti giocatori sono in procinto di partire per andare in Lidi sicuramente più ambiziosi E Seri, soprattutto il suo agente, ha parlato dicendo che ci sono stati contatti in queste ultime due settimane con la società giallorossa e che sarebbe una destinazione molto gradita Per quelli che non si ricordano le sue caratteristiche ve le riassumo in maniera molto breve È un centrocampista classe 1991 che ha quindi 28 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica Un centrocampista capace di giocare bene soprattutto da mediano perché nonostante l'altezza non particolarmente elevata è bravo non solo nel gestire palla e quindi dotato di un ottimo piede Ma anche negli inserimenti offensivi quindi talvolta potremmo in situazioni ovviamente di emergenza spostarlo come trequartista e avere anche un giocatore in più quando si tratta di mandare avanti azioni offensive Anche se lo ripeto le sue qualità principali sono ovviamente quella di gestione palla e di recupero davanti la difesa Vi dico la verità è un giocatore che due anni fa mi piaceva molto mi piaceva comunque il fatto che veniva accostato alla Roma perché aveva fatto molto bene in Francia Ed era considerato uno degli astri nascenti o comunque uno dei migliori centrocampisti di tutto il campionato francese E la Roma in quei giorni ebbe qualche contatto con l'entourage del giocatore Però vuoi per il prezzo troppo elevato che gli diedero in quel momento che era all'incirca sui 35 milioni la Roma ha deciso appunto di virare su altri giocatori come Pellegrini, Gonalon eccetera eccetera Mentre invece in questo momento l'operazione potrebbe essere molto più fattibile perché in quest'ultima anno il giocatore ha fatto una discreta stagione e soprattutto il suo club è retrocesso Quindi ha bisogno di liquidità e ha bisogno quindi di cedere i propri giocatori più rappresentativi per poter fare un budget importante e tornare quindi subito nella Premier League Quindi io vi dico la verità sarei favorevole a questo affare perché è un giocatore che mi piace, un giocatore che per caratteristiche sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 del nostro mister Fonseca E visto che appunto il giocatore verrebbe senza problemi e la squadra ha bisogno di cederlo potreste anche prenderlo a una cifra non particolarmente elevata Ovviamente non basta lui per sistemare un intero reparto perché sappiamo molto bene che la Roma è vicina anche a Avere Tu e sarebbero entrambi secondo me acquisti molto importanti Però comunque sarebbe un'aggiunta in più per poter rendere il centrocampo un reparto più competitivo soprattutto se ci saranno le varie cessioni di Gonalon, Gerson, Zonzi eccetera eccetera E sicuramente ridaresti l'infa vitale a un reparto che la scorsa stagione è stato certamente povero di soddisfazioni con giocatori che non hanno reso al meglio Giocatori che sono andati molto a fase alterne, serve quel giocatore pronto fin da subito senza spendere una cifra troppo elevata che ti possa fare bene Quindi sono contento dell'interessamento della Roma per questo giocatore che sicuramente arriverebbe sotto i migliori auspici Poi ovviamente nel calcio non si sa quello che può succedere, un giocatore può essere tanto sponsorizzato e fare male Giocatori che invece non sono nominati per nulla possono fare bene, comunque in generale per me sarebbe un acquisto molto molto importante Sarei favorevolissimo ad un suo eventuale arrivo Detto questo ragazzi allora, come vedete mi sto tenendo un po' più arretrato nei minuti perché comunque non voglio essere troppo prolisto nel dirvi certe cose L'importante comunque è che sappiate la mia opinione, come gioca questo giocatore e se secondo me lo vedrai bene con la maglia della Roma Poi se voi volete, mi raccomando, se voi volete un'analisi magari più dettagliata e che duri di più rispetto a 4-5 minuti Fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché vi ricordo che io, anche se non rispondo effettivamente a tutti i commenti, li leggo praticamente sempre Quindi tutti i vostri consigli, cercherò di seguirli nella maniera migliore possibile per farvi video che vi possano interessare sempre di più Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso e ci vediamo presto per un altro video Ciao ragazzi!